Quello dell'ecomafia è un'emergenza a cui bisogna fare fronte con il massimo impegno. Si tratta di una forma di criminalità strettamente collegata alle attività delle mafie e al sistema delle corruzioni. Così, il presidente del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo, è intervenuto a margine della presentazione del rapporto Ecomafia 2022 di Lega Ambiente a Palermo. Sicuramente è un'emergenza a cui bisogna fare fronte con il massimo impegno. Si tratta di una forma di criminalità strettamente collegata all'attività delle mafie e al sistema della corruzione. Abbiamo ritenuto di attribuire una precisa priorità alla trattazione dei delitti contro l'ambiente nell'attività del Tribunale di Palermo. Crediamo che il prossimo passo da fare sia quello della formazione e della specializzazione. Il complesso dei dati che emerge dal rapporto di Lega Ambiente è estremamente significativo. Da uno spaccato in tempo reale dell'evoluzione della criminalità ambientale ed è anche un grosso stimolo per tutte le istituzioni.